Sono decenni che il Formez lavora insieme ai comuni italiani. Noi ci occupiamo di persone e ci occupiamo di organizzazione. Cerchiamo di capire insieme a voi quelli che sono i vostri fabbisogni di personale, selezioniamo il personale di cui avete bisogno, lo formiamo. Cerchiamo di migliorare la vostra organizzazione anche attraverso interventi di digitalizzazione e di superare bisogni temporanei di personale attraverso i progetti di assistenza tecnica. Per i comuni abbiamo attivato Linea Mica, un servizio informativo che cerca di diffondere e di rendere facili da capire tutta una serie di informazioni relative a come funziona la pubblica amministrazione, in particolare legati al PNRR.